Benvenuti a MeteoGiulianci.it, domani giovedì 22 marzo un po' di nuvole innocue su tutta l'Italia per merito di un'alta pressione stesa a tutta la penisola, ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete le nuvole che qua e là ricoprono gran parte della penisola. Che tempo allora farà domani? Bene, nuvole soprattutto sulle regioni di nord-ovest e tirreniche, nel pomeriggio nubi in aumento sulle regioni appenniniche con qualche isolato rovescio nelle zone interne del centro. Per quanto riguarda le temperature queste saranno ancora in ulteriore rialzo e comunque ovunque gradevoli. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.